Enzio, fermi! Motore! Mantido! Enzio, fuori, grazie! E azione! Ci proviamo! Dall'altra, un pochino blu e anche un pochino bianco lassù. A destra e a girarti verso lì. Beh, è un film serio, parla di persone adulte che hanno incontrato la vita vera e con quella si sono dovuti attrezzare. Davide mi ha lasciato. Ma avete appena comprato a casa. Lo vuoi un gatto? Tu sei l'unico uomo al mondo che io conosco che molla moglie e figli senza manca avercene amare. Davide non ti ha lasciata per un'altra donna, ti ha lasciata per un'altra vita. La verità sull'amore? La verità? Eh, questa è una domanda impossibile. Ma la verità non esiste, è soggettivissima. Per esempio, no? Mamma, io ti ho trovato a letto col piastrellista. Non ne ho la più pallida idea all'amore, sono attimi di godimento con sconosciuti, possibilmente. Meno conosciuti sono, meglio è. Piastrellista. Ma era pure buono il piastrellista, mi pare. Ok, motore partito. Direzione. Direzione. Pronto? Sto per chiederti di diventare la tata dei miei figli. Simone è un po' una vittima del nostro tempo. Molto, no? Può sembrare confuso, ma invece l'unica cosa che lo confonde è lei, Sara. Dovresti sorridere. È successo che ho conosciuto una persona diversa che mi costringerà a cambiare vita. Ok, proviamo a girare. Sono uno! Sono due! La figura paterna è evidentemente rappresentata come uno sgorpio. È evidente che la vede come una figura violenta. Ah. Sono stato bravo papà? Sì, abbastanza. Abbastanza? Potrei fare anche meglio? No. No, bene. Quindi esame superato, direi. Grande! Che pallida! La cosa che mi piace di più nel cimentarmi in un ruolo diverso, che non è quello della cantante, è il fatto di mettermi alla prova e di darmi delle nuove possibilità. Tu piuttosto, ti vedo in forno. Anch'io mi do da fare, sai? No! La risa finita il film! È stato bello pensare di rendere tutto credibile, anche il regista, perché è una persona che si massaggia le gengive. Io metterei il laterale, quindi farei i due campi su nonno e nonna. Ok! Ma perché direi che in questo ultimo film da Max Croce c'è sta molto titanismo, il titanismo della Guardiux, però c'è sta anche un po', diciamo... Rasta il nuovo al trucco! Scusate. Scusate. Ha disegnato la casa grigia. Eh, si sa, la casa rappresenta chiaramente la figura materna. E li ho fatti io. Che cosa? Eh, li ho fatti io. Dai, 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 dai. La verità vi spiego, su, amore. Facciamo un cambio. Vuoi? Ma non ho capito, scusa, ma tu sei stata con quest'uomo per tutta la vita solo con lui? Eh beh sì. Ma pensa che parli.